Ah per Dio, è un deste. Che vuoi io? Lava la buca. Ah, cala, 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 cala. No, 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 non mi permette, perché non lo ha detto. Ah Vittor, la stai facendo quando va, attracce. No, che vuoi con la uova. No, che vuoi con la uova. No, non ci vuoi fare. Ma che... Non ci vuoi, questo pacco... ...dizzi, la valora... 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 Alla prossima Acca, acca. Va, 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 va. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. Guarda, guarda. E' un'altra cosa? Allo certo. La storbio. La storbio qua è una carta? Si.